Per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti Cospid Livello 2, utilizzando il dispositivo TP Display, collegati al sito desiderato, ad esempio Agenzia delle Entrate, e individua la pagina di autenticazione tramite Spida. Alla voce Intra Cospid, seleziona Aruba ID. Dalla scheda Utilizza Speed 2, inserisci il nome utente Speed creato in fase di registrazione dell'identità digitale e la password. Per visualizzarla in chiaro, abilita il flag su Mostra Password. Il riquadro Tempo rimanente in basso a sinistra indica il tempo massimo che hai a disposizione per eseguire l'autenticazione. Se esaurisci il tempo senza aver concluso l'accesso, devi riprendere il processo dall'inizio. Il riquadro Tentativi rimanenti indica i tentativi massimi a disposizione per eseguire l'autenticazione. Fai attenzione! Nel caso in cui si inserisca nome utente o password errati per più di 5 volte, l'accesso è inibito e sarà necessario ripetere la procedura dall'inizio. Ok, adesso clicca Entra Cospid. Si visualizzano i livelli due attivi e associati al tuo Speed. Seleziona OTP Display. Se al tuo Speed hai un solo dispositivo associato, visualizzerai direttamente lo step successivo. Accendi il dispositivo fisico e visualizza il codice OTP. Digita il codice qui. Per visualizzarlo in chiaro, abilita il flag su Mostra OTP. Clicca su Entra con Speed. Una volta inserito il codice OTP corretto, il sistema mostra i dati dell'intestatario e il codice identificativo Speed. Verifica nella correttezza e clicca su Autorizza per concludere l'autenticazione. L'accesso è avvenuto correttamente. Qualora sia stata attivata la funzionalità notifiche tramite email degli accessi stessi, si riceve apposita comunicazione.